In primo piano Il riconoscimento della cittadinanza alle persone di origine straniera che vivono in Italia è stato il tema al centro del dibattito che ha coinvolto in aula numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. Credo che lo Ius Soli sia un atto di civiltà giuridica, nonché anche una convenienza adottarlo. Un atto di civiltà giuridica perché chi nasce in un paese ha assolutamente diritto di essere cittadino di quel luogo. Nel 2012 io non credo di poterla pensare diversamente. Convenienza perché un giovane che vive in un luogo contribuisce fortemente al lavoro, alla costruzione di quel luogo. L'iniziativa all'Italia, sono anch'io, è sicuramente apprezzabile, degna di rispetto come le parole di Napolitano ma a mio avviso limitativa rispetto all'argomento immigrazione che ha una complessità decisamente più ampia per tutti i problemi sui quali impatto, ordine pubblico, sicurezza e via dicendo. Quindi il discorso è che bisogna inquadrarlo in un contesto di più ampio respiro perché la visione secondo me di questa tematica è semplicistica e riduttiva. Cinque gli ordini del giorno discussi. Il primo presentato da Luigi Curso, Italia dei Valori Il secondo proposto da Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra Il terzo da Monica Ciarutti, Sinistra Ecologia e Libertà Il quarto da Davide Bono, Movimento 5 Stelle E il quinto da Mercedes Bresso, Uniti per Bresso Nel nostro ordine del giorno noi invitiamo il Parlamento italiano a legiferare tenendo conto che i bambini nati in Italia anche da genitori stranieri sono una risorsa su cui il Paese investe e quindi va offerta loro l'opportunità di diventare italiani. Le regole, le modalità, i temperamenti potrà decidere il Parlamento però non possiamo permetterci per ragioni di civiltà ma anche per ragioni di investimento che se questi bambini viene fatta di non tenerne conto. Non dimentichiamo che il nostro diritto è un diritto che nasce dal passato dal fatto che avevamo una terra di emigrazione che quindi volevamo non perdere i figli dei nostri cittadini emigrati all'estero. Il PDL ha ritenuto irricimibili gli ordini del giorno dell'opposizione in tema di cittadinanza perché l'approccio era assolutamente sbagliato non affrontavano infatti anche il tema dell'integrazione. La cittadinanza non fa il popolo e semmai l'ultimo tassello di un lungo percorso di integrazione che nel nostro Paese e nelle nostre città soprattutto deve essere ancora compiuta. Noi riteniamo che l'Italia sia di chi la ama però gli italiani non lo si può diventare. Per caso lo si può diventare soltanto o per tradizione o per una scelta che però deve essere comprovata.